Sarà un'estate lieta per 20 coppie siciliane, una felicità alla loro resa possibile grazie alla fecondazione assistita. La fecondazione eterologa, o forma di procreazione medicalmente assistita, era stata vietata con la legge 40 del 2004. Tale divieto era stato vanificato lo scorso aprile, così dunque si renderà percorribile anche questa strada finalizzata alla creazione di una famiglia. La prossima estate saranno dunque in 20 i neonati a nascere grazie a questo procedimento, due dei quali in provincia di Ragusa. Oltre alla Sicilia sono solo tre le regioni che si sono aperte alla fecondazione eterologa, Toscana, Lazio e Veneto. Un esempio di come la scienza sia servita al conseguimento della nostra felicità.